Quagliù, a me fa fuori la gassina C'è la faccio ciù, se ne va dai Prendiamo, facciamo fai la fai Mettiamo in due sale e paro Sotto oggi, ma che mi ha fatto in melanzania? E' pericoloso, partiamo dall'aeroporto C'è la faccio ciù, se ne va dai Lo dobbiamo andare a prendere, dove sta? Lui è a casa a posirli po' Ehi, ma se va a cuccare un bambino a frattaminoro Non so se fai cosa cazzo Come sostituzione? C'è la faccio ciù, se ne va dai Allora il piano è con tuam, lo imbavaggiamo, lo incappucciamo O tacchiamo la mano e pira E poi? All'aeroporto Lo buttiamo all'aeroporto, non trovo qua, non ci facciamo niente Va bene, gli facciamo prendere il primo aereo, però Mi conosco Cosa fa chissà mi conosco, fai scacarsi a mi conosco Andiamo a ballare, andiamo a filmare Questo è il tuo video Così si scelgono poco Però ragazzi, dobbiamo trovare il sostituto, eh Chi proponete, vediamo Io propongo lui, lui è bravo nell'emergenza Il sen Giuseppe con due politiche, ma tu che proponi? L'idea da me Perché l'uomo che ha paura di... può far meno... Non c'è niente E chi sta salvando con te comodo? Eh, tengo paura e ho domandato Tu chi proponi, vado? Visto buone, veloce, non mi ha mangiato Non sape fare niente Oh, ti chiedi Pijama a trapattoni Ma come hai i trapattoni, Pascale? Trapattoni, Pascale, Trapattoni Tiene scendano Trapattoni Fanno fischio, c'è un zombo a dentiere, c'è un zombo a pulmone Corre a presto, c'è un infarto a Trapattoni Pascale, ma che stai scendendo, Pascale, Trapattoni C'hai chissà pizzo in mezzo a docento conto politico Chissà pizzo a docento conto che leggo pure Tu mi metti in mezzo a trapattoni Pascale, c'è una cosa Chi sei scemo? Ma voi muovete, però Sai che c'è di nuovo Ma io mi devo gancarsi Come il tassaraccio mostroso E metto Ah, e dove vedi sto posto di manetta? Ti preoccupa Lo faccio l'allenatore Tu fai una seconda mia Ma ti fatti giocciotta